Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Si veleggia ma cerchiamo di non veleggiare troppo e quindi un po' di restringere il campo di quello che vuole essere una mia riflessione come spunti per i quali poi magari sono felice di ascoltare il parere degli addetti ai lavori dell'altro campo che oggi, cioè questa sera e soprattutto il campo della fisica come starò detto, quindi invece di parlare in generale del rapporto tra la teologia e le altre forme del sapere mi limiterò ad aprire alcune finestre sul mondo della fisica così come lo conosco da la lunga frequentazione del SEFIR, Scienze e Fede, che era un'area di ricerca presente nell'Issituto Ecclesia Mater e anche per la mia passione che è anche quella di gettare lo sguardo fuori dalla sacrestia teologica per cercare di reperire quelli che possiamo chiamare i semi del verbo e i segni dei tempi nelle altre culture, nelle altre modalità di ricerca. E quindi questo sarà, diciamo un po' la prospettiva di qualche finestra che cerco di aprire questa sera, non nascondendovi una preoccupazione, una duplice preoccupazione. Penso che siamo in una situazione in cui il sapere filosofico e teologico è particolarmente messo in crisi ed è messo in crisi intanto dal fatto che la metafisica ha abbandonato la fisica. E questo non doveva essere così alle origini. Alle origini no, io non sono metafisico. Alle origini non fu così, no? Metatafisica significava oltre e dopo la fisica ma perché si è passati attraverso la fisica. Quindi questa è già una prima preoccupazione. Un'ulteriore preoccupazione è che la teologia dimentica la metafisica e dunque questo oblio della metafisica a cui collabora attivamente non tutta, devo dire, ma parte della teologia contemporanea è un aspetto inquietante della situazione, insomma, precaria, in cui versano il sapere teologico e quello filosofico. In più il sapere teologico ha il problema di ricevere la cittadinanza nell'ambito dei saperi e questa cittadinanza spesso gli è negata, ma gli è negata soprattutto a causa dei teologi stessi che non svolgono in maniera scientifica il loro lavoro e quindi non possono ovviamente pretendere cittadinanza nel campo delle scienze. Ma io vorrei fermarmi su tre punti ma proprio molto rapidamente. La prima finestra che apro per far entrare un po' di aria fresca della fisica nella teologia è un tema che mi intriga da molto tempo, al seguito come teologi direi gli Ubach e direi soprattutto di Riffon Balthasar, in particolare di quel bellissimo testo è titolato La verità sinfonica, ed è il tema della logica del pararosso, cioè a me interessano molto e soprattutto i pararossi anche della fisica. E in particolare un primo pararosso sul quale vorrei progettare lo sguardo è il fatto che per conoscere l'infinitamente grande bisogna conoscere l'infinitamente piccolo e quindi bisogna rivolgersi alle particelle subatomiche per cercare in qualche modo di rispondere alle domande sulle origini del cosmo e sulla struttura della materia e quindi anche sul senso, perché non è vero che le scienze che si occupano di questi temi si occupino soltanto dei significati e non del senso. La questione del senso è presente in tutti gli ambiti del sapere in maniera diversa e ciascun ambito del sapere lo svolge secondo la razionalità che gli è propria, la forma di razionalità che gli è propria. Dunque bisogna guardare l'infinitamente piccolo per abitare questo cosmo che ci è stato dato e questo mi porta proprio a rilevare per esempio come in una prospettiva che potremmo chiamare transdisciplinare secondo il dettato di verità di Sgaudium e la transdisciplinarietà per me è un nome della mistica sostanzialmente perché ci vuole un'attitudine mistica direi quasi come quella di Re Giorgi per andare oltre il dato. Ebbene amo molto citare a questo proposito il famoso detto di origine gesuitica non quercedi a maximo condineri tamen a minimo divino maesta cioè non lasciarti costringere da ciò che è più grande ma essere contenuto in ciò che è più piccolo quindi chinarsi su ciò che è più piccolo. Questo è divino e questo che è divino è il mistero del paradosso anche del verbo che si fa calde che è il grande tema della teologia, della teologia cristiana. L'altro poi naturalmente sono sempre molto appassionato alle vicende del neutrino ma su questo vi lascio stare perché ci sono le persone competenti più di me a parlarne. L'altro paradosso sul quale mi vorrei in qualche modo fermare o l'altra finestra che vorrei in qualche modo aprire è quella che riguarda come tutti sappiamo la materia oscura cioè il fatto che ci sia ed è il titolo di una sezione di un volume del professor Battiston un lato oscuro del cosmo che non è il lato oscuro della forza di Star Wars perché altrimenti andiamo in qualcosa di inquietante ma è quel sottrarsi in qualche modo ad una conoscenza totalmente trasparente anche da parte di elementi del cosmo quindi c'è sempre qualcosa di non conosciuto tanto più che questo non conosciuto ci lancia comunque dei messaggi perché altrimenti non sapremmo nemmeno che c'è se non ci fosse la possibilità attraverso la legge di gravità se ho capito bene di percepire in qualche modo la materia oscura noi non sapremmo che c'è la materia oscura e però e tuttavia sfugge alla presa di una conoscenza totalizzante qui entrerei in un altro tema che è il grande tema della possibilità di conoscere il tutto della teoria del tutto teoria del tutto che come sapete è perseguita in particolare da Stephen Hawking e che può essere anche considerata un'utopia perché di fatto è un utopos che la mente umana possa abbracciare la totalità come diceva Rosenzweig contro i filosofi sulla possibilità di conoscere il tutto nella prima parte della stella e dunque è una conoscenza che si fa attraverso una sorta di coincidenza degli opposti oscuro oscuro luminoso e questa coincidenza degli opposti che ci rimanda al grande Cartancusano è anche una modalità propria del sapere geologico per diversi aspetti che non sto qui ad elencare e procediamo a Tentoni come a Tentoni procede dice Paolo fa dire Luca Paolo in atti 17 l'uomo nella ricerca di Dio cioè si va avanti per tentativi la conoscenza anche quella scientifica che noi direi dopo il covid ci siamo anche un po' ridimensionati da questo punto di vista cioè prima sembrava che la scienza fosse del tutto infallibile abbiamo capito insomma che va avanti per tentativi come va avanti attraverso concetture c'è una cristologia concetturale per esempio nel grande Niccolò D'Acusa l'ultima cosa che volevo l'ultima finestra che volevo aprire mi viene incontro da un breve saggio un articolo che ha scritto Ugo Amaldi su vita e pensiero una prestigiosa rivista dell'Università Cattolica di cui Monsignor Giulio Dori è assistente che riguardava la questione del multiverso so che è una questione borderline che ovviamente interessa per lo più i fisici teorici verso la quale la fisica sperimentale è piuttosto guardinga se non del tutto scettica ma e mi ricordo appunto tutti i discorsi sulla teoria delle stringhe col professor Picozza nel Sefir e anche i dibattiti a questo riguardo ma ciò che mi devo domandare necessariamente come teologo dopo e durante anche la lettura di questo articolo di Ugo Amaldi è se la teoria del multiuniverso ripugni alla fede e alla teologia per cui bisogna in qualche modo scartarla a priori senza nemmeno aspettare se qualora fosse possibile magari verificarla o anche falsificare dunque Amaldi si pone questi problemi e risponde che poi in fondo di fronte a questo grande tema della possibilità del multiuniverso si si trova di fronte a una prima possibilità il cosmo con l'aggiustamento fine delle costanti esiste per caso questa è la prima possibilità dell'agnostico o del diversamente credente o del non credente oppure il cosmo sempre con l'aggiustamento fine delle costanti è un multiuniverso in cui universi hanno origine spontanea nel vuoto quantistico ci viene a dire la fisica stessa che il nulla è il vuoto in fisica non è il nulla è il vuoto della filosofia e della teologia ma finalmente si può anche continuare a credere qualora la teoria del multiuniverso fosse verificata e questo perché perché Niccolò Cusano e torniamo a lui aveva descritto un universo interminato e senza centro e Giordano Bruno gli riconosceva che così si magnifica l'eccellenza di Dio si manifesta la grandezza del suo imperio non si glorifica in uno ma in soli innumerevoli non in una terra in un mondo ma dico in infiniti mondi grazie 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 grazie